Si rende necessaria una puntualizzazione critica autorevole, attenzione, siamo di fronte a un genuino talento artistico naif, la indaga nei sotterranei, borderline è l'unico esempio attuale di underground, la rossa si staglia su fondo nero a simboleggiare l'anarchia delle sue scelte e la totale incapacità di assumire condizionamenti, bisogna inoltre dire che siamo un po' come dire disgustati da questa schiera di imitatori, da questo delirio di trincetti sanguinanti di pistole prontane dalla tempia, sono imitatori volgari, sempre senza alcune parte. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!